Molto buongiorno a tutti, quest'oggi ho fatto trasportare il mio container da un'altra parte e ho un piccolo problemino perché una volta entrato nel container ho notato che il pannello fotovoltaico non stava lavorando bene probabilmente si deve essere danneggiato durante il viaggio e infatti il voltaggio di ingresso è praticamente zero per cui non va assolutamente bene dobbiamo provvedere a riparare il pannello Avete mai saldato a 3 metri di altezza senza un saldatore ma con un accendino? Ebbene è una pratica che ovviamente non è consigliata per circuiti molto sottili ma nel mio caso che devo riparare un pannello fotovoltaico che si è graffiato per cui non funziona più è uno strumento che si può andare a utilizzare, ovviamente va fatto con le dovute cautele e infatti se già saldare a stagno non è semplicissimo saldare a stagno con una fiaccola è veramente abbastanza complicato ma le basi sono sicuramente le stesse per cui chi ci sa fare in una maniera ci può saper fare anche nell'altra voglio ricordarvi che se non lo sapete fare è meglio assolutamente non farlo perché può andare a fuoco tutto quanto ma oggi vi insegnerò le basi per saldare una qualunque saldatura anche con una fiaccola come in questo caso in una situazione quasi di emergenza le basi della saldatura sono ovviamente le stesse per una saldatura con un normalissimo saldatore anche quello dell'idol più economico che potete trovare lo potete fare anche con quello ovvero in linea di massima più è alta la temperatura meglio aderirà il materiale che deve unire in questo caso lo stagno noi utilizzeremo dello stagno già presente qua giù sul pannello per cui non dovrò procurarmene di nuovo ma se ve lo dovete procurare mi raccomando vi consiglio di utilizzare un stagno con già della pasta saldante all'interno magari anche una percentuale piccola oppure una pasta saldante esterna proprio da applicare sopra questo renderà tutto molto molto più semplice attenzione perché con la fiaccolina farà molto più fumo di un saldatore normale per cui utilizzatelo o in spazi aperti o comunque sia con un sistema di areazione tale per cui può insomma ventilare un attimino la base dove andrete a fare altra considerazione da fare è quella di pulire perfettamente la superficie che dovremo andare a saldare per cui mi raccomando utilizzate quello che trovate una chiave, un taglierino, una spazzola del trapano che è in grado di pulire insomma tutto quello che è necessario per ripulire tutto quanto alla perfezione io purtroppo l'unica cosa che sono riuscito a trovare salendo qua giù vicino qua giù ci sono delle telecamere salendo vicino alle telecamere è stato un pezzettino di taglierino che qualcuno deve aver fatto cascare per cui utilizzerò questo per grattare tutta la superficie del pannello dietro proprio per garantirmi la pulizia completa del componente prima di andare a fare la saldatura come vedete io dovevo grattare su questa superficie del pannello proprio per tirar fuori la linguetta e allora con l'aiuto di questo taglierino ho sbucciato un pezzettino di truciolatino di questo materiale dopodiché assieme a un po' di polvere e un po' di ruggine in questo mi sono messo a strofinare tutto proprio a grattare e a pulire al meglio la superficie adesso proseguo a ripulire questa parte qua giù perché sarà la parte dove devo andrò a saldare tuttavia qua giù abbiamo del silicone che è stato messo sotto a protezione di questa superficie per cui nel mio specifico caso io utilizzerò subito la fiaccolina proprio a ripulire tutte le particelle intorno anche di sporco se utilizzate una fiaccolina come la mia cioè anti vento di quelle piccoline le accendine per intendersi dobbiamo anche sfruttare il fatto dei diversi punti di calore in base a quanto l'avviciniamo e l'allontaniamo e infatti in questo momento con tutta questa luce non si vede assolutamente la fiamma ma è completamente trasparente tuttavia sappiamo che la fiammellina uscirà di un tot qui si può anche regolare peraltro uscirà di un tot per cui farò alcune prove magari con del materiale che si può prendere fuoco proprio per vedere in quale punto quanti centimetri prenderà prima fuoco così capirò che in quel punto è molto molto più caldo di solito se la fiamma è visibile proprio dove c'è la punta è il punto di maggiore calore vediamo facciamo subito una prova vedete che non si vede la fiamma ma se la vicino prende fuoco vedete che nel mio caso il punto di maggiore fuoco ce l'ho circa qua giù quindi a un 2-3 centimetri dalla fiamma per cui dovrò utilizzare la fiamma a 2-3 centimetri dalla superficie che io voglio pulire o andare a bruciare in questo caso dopodiché se voglio cospargere meglio mi avvicinerò ma attenzione perché se sono come nel mio caso in un punto al chiuso le fiamme si potrebbero propagare perché il gas insomma non riesce ad arrivare nel punto preciso per cui giochiamo proprio ad avvicinare e a muovere intorno questa fiamma per riscaldare la parte che io voglio andare a sciogliere una volta ripulita a sufficienza la superficie che io voglio andare a saldare non mi resta che ad operare come ho detto o uno stagno o una pasta salda o qualcosa che possa aggrappare abbastanza bene non avendo nulla a mia disposizione utilizzerò del grasso che trovo sui lati del container infatti alla base del container trovo del grasso messo proprio a lubrificare la serratura non è la cosa più adatta ma nel nostro caso sarà più che idoneo a fare il suo dovere anche perché è l'unica cosa che ho per cui utilizzeremo quella non è moltissima ma è quella che sono riuscito a prendere senza fare troppo il circense per cui adesso la vado ad applicare sulla superficie da attaccare dopodiché utilizzerò come ho detto dei pezzettini di stagno che avevo già tolto dal pannello devo andare a togliere infatti una cella perché si è graffiata, si è rovinata non funziona più e mi abbassa tutto il voltaggio del pannello per cui andrò a utilizzare lo stagno già presente sui vari filamenti proprio per andare a unire queste celle in realtà non so nemmeno se funzionerà ma non ho alternative vado ad applicare il più possibile questo grasso ovviamente il consiglio era ripulire anche tutta la zona proprio per non far venire tutti questi briciolini sopra ma non ho avuto alternative la zona è pronta la andiamo a riscaldare e a posarci la base di stagno che ho trovato la base di stagno che sono riuscita a ripenire sono questi briciolini che sono come vedete le giunzioni, le lamelle di giunzione delle celle ora dopo magari lo vediamo dall'altro lato e dobbiamo andare a scioglierle perché sopra queste sono i rame e sopra come vedete sono grigie per cui c'è molto molto stagno messo sopra e allora le andrò a posizionare direttamente sopra la zona che devo andare a riscaldare così che si scioglieranno e rimarrà poi il filamento all'interno eccoci, questo è il momento perfetto se il vostro stagno fa delle palline non è una buona cosa ma come avete visto in questo momento questa pallina di stagno, questa poca superficie di stagno si è plof, ha fatto proprio così perfetto, questo è il momento ideale perché fa la pallina allo stagno? quando la superficie su cui deve andare ad attaccare non è abbastanza calda invece nel momento in cui fa plof questa pallina quindi si affloscia vuol dire che la superficie di attacco è abbastanza calda e quindi lo stagno che anche lui è caldo riesce ad attaccarsi ora per mia fortuna ho trovato per terra questo materiale che sembra acciaio o nickel non ne sono molto sicuro ma sono quasi certo che possa prendere la saldatura è stato proprio per questo che ho deciso di fare oggi questo lavoro perché l'ho trovato per terra il che mi è sembrato perfetto allora con l'utilizzo sempre della mia fiaccolina vado a spiaccicare per cercare di raddrizzare il più possibile questo filamento perché ovviamente la saldatura che devo andare a fare io sarà dritta per cui lo spiaccico tutto fino ad ottenere una bella superficie dritta e lineare se poi ho delle pinze o altro ancora meglio se poi ho del filo di rame o del nickel o altro materiale da mettere è ancora meglio ma noi ci adatteremo con questo quindi lo andiamo a spiaccicare tutto paro paro proprio a cercare di raddrizzarlo il più possibile e togliere tutti questi angolini che ci sono che insomma possono essere veramente pericolosi e rischiosi dopodiché sempre con l'utilizzo della mia pezzettina di taglierino vado a pulirlo il più possibile per andare ad accettare la saldatura mi raccomando quindi in cima grattarlo particolarmente bene proprio per far aggrappare soprattutto se è un po' ossidato la maggior parte della superficie dopodiché lo sporcherò con il mio solito grasso e andrò a posizionarlo sopra per cercare di fargli prendere la saldatura bene come sempre in versione clerice ho tirato fuori dal forno una bella strisciolina raddrizzata abbastanza e anche abbastanza lunga per fare quello che devo fare per cui la vado a posizionare sopra e cerco di fargli fare la saldatura allora questa parte non è per nulla semplice perché il consiglio sarebbe di preparare prima la superficie di qua della strisciolina proprio per accettare la saldatura ma in questo caso per noi sarà particolarmente difficile fare una cosa del genere per cui dovremo andarlo a posizionare e purtroppo devo utilizzare due mani e non so se riuscirò a tenere la telecamera in mano mentre farò questo tipo di collage mi procuro delle altre striscioline così che vado a rimuovere da qua giù vedete da qui l'ho rimosse vado a rimuoverle da qui le vado a posizionare sopra così cercherò di fare una saldatura migliore ho provato ma con una sola mano non riuscivo a fare tutto allora vedete che ho riscaldato e applicato una particella di sodio di stagno sono riuscito a farla attaccare per cui non mi resta che posizionarla sopra e andare a farle unire per dargli una parvenza di maggiore serietà sono andato a ripiegare la strisciolina una sopra l'altra e come vedete questo è il massimo della saldatura che si è riuscito a fare ma comunque sia mi sembra abbastanza resistente per fare quello che dobbiamo fare per cui non mi resta che andarla a collegare dall'altro lato e finire il lavoro ora devo ammettere che dall'altro lato è stato molto più semplice perché avevo già questo rame che era come vedete già stagnato per cui possedeva molto stagno sopra ed era già un rame piatto per cui non ho fatto altro che andarci a fare questa saldatura sopra spiaccicandola in maniera veramente sgradevole riscaldando come vedete molto la superficie ma per fortuna l'ho presa molto distante dalla base della cella che invece è qua giù per cui non è assolutamente stata rovinata vedete che utilizzo la parte sopra per spiaccicare la linguetta e far fare una buona saldatura meglio che nulla bene siete curiosi di vedere se va? anch'io adesso lo proviamo e voi avevate mai saldato con una fiaccolina? vi siete mai ritrovati in condizioni di dover saldare con una fiaccolina? forse adesso sapete qualcosa di più su come saldare una fiaccolina d'altronde scuola riciclo vuole essere anche questo ovvero insegnare non più soltanto a saper fare con l'attrezzatura ma proprio a saper fare anche con niente come in questo caso bene spero che questo video vi sia piaciuto anche perché fa parte di una nuova raccolta del nuovo format che mi vedrà coinvolto in molte riparazioni senza avere niente in mano quindi come vedete oggi dovevo fare una saldatura e non avevo un saldatore e ne vedrete suppongo io delle belle ma voglio sapere la vostra fatemelo sapere nei commenti noi ci vediamo alla prossima e molto buongiorno ah prima guardiamo se va però non saranno le saldature più pulite che avrete mai visto ma comunque sia direi che reggono molto molto bene e questo basta quindi richiudiamo tutto vediamo un po' che la batteria si sta già riprendendo mentre abbiamo il voltaggio qua giù di uscita che non lo vedo sono 33 volts quindi direi che è pienamente riuscito il nostro progetto abbiamo riparato il pannello fotovoltaico quindi per chiunque gli si fosse graffiato e rovinato una cella del pannello fotovoltaico non lo buttate via o lo potete riparare solo con un accendino